Ciao a tutte, bentornati sul mio canale! Oggi un altro video in cui vi mostro l'ultima mia creazione ed è una Midori in formato regular quindi è un po' più grandina di quelle che ho fatto le altre volte Allora, questa è molto estiva l'ho creata con la carta regalo che avevo preso la Lidl poi ovviamente è rinforzata con del cartoncino e poi vi faccio vedere l'interno plastificata sopra ho attaccato questi fenicotteri e queste ananas color glitter glitterati e poi l'elastico ci ha attaccato questo charm a stellina ora vi faccio vedere l'interno allora, l'interno ops, è scaduto qualcosa l'interno è di vellutino non so se riuscite a vederlo è un cartoncino di vellutino quindi l'ho ricoperto così internamente sia davanti che dietro e gli inserti sempre creati da me sono con pagine bianche e sono il primo a questa copertina con sui fenicotteri rosa e oro mi piace tantissimo il secondo è sempre estivo con le ananas e delle decorazioni floreali e il terzo ha queste macchie non proprio non sono proprio puam sono fatte sono un tempo dalle macchie petalose sempre di questo color verdino molto carino e questo è il retro qui c'è un piccolo difetto non so se si nota perché quando l'ho plastificato mi è rimasta una bolla d'aria e c'è questo piccolissimo difetto però tutto sommato sono molto soddisfatta di questa creazione eccoci qui questo bidori bello estivo comunque l'ho trovata in vendita sul mio negozio Etsy sotto vi lascio il link del prodotto andate a fare un giro sul mio negozio anche a guardare gli altri prodotti che ho in vendita e niente fatemi sapere se vi piace se avete consigli da darmi e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao